ora non ci resta che vedere tutti gli accessori del nostro gotex un po più nel dettaglio e fargli fare un bel po di posette per un dito nel culo ma porco il secondo che andremo ad unboxare no aspetta fermi tutti e salve a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale oggi siamo qui ora non ci resta che vedere un po più nel dettaglio tutti gli accessori del nostro gotex e in più fargli fare un paio di pose e vedere un po come si comporta grazie per aver sucato la minchia ed ora quando e salve a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale oggi siamo qui con l'unboxing della collector's edition di sekiro da sha porco perfetto ragazzi siamo arrivati fino alla fine questa figur veramente mi ha lasciato senza parole 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 perfetto perfetto ragazzi arrivati fin qui bene potete andare a fanculo e salve a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale anale del anale ragazzi io sono davvero senza parole questa figure ha suscitato in me dei porco di noi ragazzi ci rivediamo al prossimo sto cazzo e salve a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale oggi siamo qui con l'unboxing di una collector's edition bella nuova nuova stiamo parlando di sekiro shadows die twice ma vai a fare in culo va come potete vedere voi direttamente dal video è ricca di dettagli e la qualità proprio della figure è veramente molto molto alta e salve a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale oggi siamo qui con un unboxing tutto nuovo di una collector's edition di una collector's edition di una collector's edition grazie mille davvero per essere arrivati fino a questo punto come potete vedere questa figure è veramente spettacolare anche se non siete fan dei digimon comunque sia potete andarvene a fanculo perchè i digimon sono vita anche se dato che i capelli del super saiyan sono affilati e salve a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale oggi siamo qui con l'unboxing di questa nuovissima collector's edition e stiamo parlando di sekiro shadows die twice ma porco è veramente spettacolare se vi piacciono i digimon se vi piacciono le caramelle ve le potete vi chiederei più e in più vedere un po' del dettaglio anche sto cazzo di minchia e salve a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale oggi siamo qui e cambio porco il diavolo e vi ringrazio per sto cazzo grandissimo e infine due volti intercambiabili per c****** non riesco a tenere porca troia di cose in mano ed eccoci qui anche con il nostro super vaffanculo e infine due volti che porco d***** non mi mette a fuoco che porca d***** nonna di palle di c***** non lo mette a fuoco va a fare in culo come cazzo devo fare ma come cazzo devo fare porco d***** perfetto dopo aver cambiato la testa del nostro Trunks in quella del del porco d***** perfetto e anche oggi siamo giunti al termine del video io vi ringrazio tantissimo per aver visualizzato sto grandissimo uccello di 47 cm e ve ne potete andare a c*****e grazie a tutti